Benvenuti nel mondo Enicar. Enicar è uno dei marchi più prestigiosi della Svizzera, la patria dell'orologeria di alta gamma. Fondata nel 1913 alla Chaux-de-Fonds, Enicar ha guadagnato una fama internazionale per la sua precisione, affidabilità e design innovativo. Uno dei modelli più iconici dell'azienda è lo Sherpa, un orologio da polso creato negli anni 50 e 60 per resistere alle condizioni estreme dell'alpinismo. Lo Sherpa è diventato un orologio da collezione molto ricercato per la sua robustezza e il suo design distintivo. Ma Enicar ha sviluppato anche altri modelli di orologi da polso, tra cui il JetGraph, un orologio cronografo che ha guadagnato una popolarità significativa negli anni 60 e 70. Enicar ha sempre puntato sulla qualità dei suoi prodotti e sulla capacità di produrre orologi di alta gamma per un pubblico esigente. Nel corso degli anni, Enicar ha subito diversi cambiamenti di proprietà e di direzione. Nel 1988, l'azienda è stata acquisita dalla catena di negozi di orologi svizzeri su Wind Group. Nonostante i cambiamenti, Enicar ha mantenuto la sua posizione di leader nel mercato dell'orologeria di lusso, grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla sua capacità di innovare. Enicar rimane un marchio di orologi di lusso di alta qualità con un'importante eredità nella produzione di orologi resistenti e precisi. Gli orologi Enicar sono realizzati con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, il titanio e l'oro. Il vetro zaffiro, resistente ai graffi, protegge il quadrante dell'orologio. L'attenzione per i dettagli è una caratteristica distintiva degli orologi Enicar. Ogni dettaglio è curato con estrema precisione, dalla finitura del quadrante all'incisione del marchio sul cinturino.